Ok, ciao a tutti, io mi chiamo Chantal Valle, ho 39 anni, abito a Gassino Torinese, sono sposata, ho due bambini di 7-8 anni. Ok, cosa faccio nella vita? Sono grafica pubblicitaria, mi occupo di grafica da 20 anni, ho lavorato anche in Proprio, ho avuto insomma diverse attività. Sono nel movimento da due anni, anzi direi che il movimento del gruppo di Gassino l'ho confondato con altre due persone e in questi due anni abbiamo lavorato tanto sul territorio, posso dire con orgoglio che abbiamo fatto diverse cose e sono molto contenta di essere, di far parte di questo movimento perché credo che sia veramente l'unica alternativa che abbiamo al momento in questo paese. Mi sono avvicinata tanti anni fa al movimento di Grillo, però sono attiva appunto come dicevo solo da tre virgolette da due anni. Mi sto candidando in Regione perché? Perché vorrei portare un po' della mia esperienza di attivista, di attivista sul campo, di attivista credo vera perché appunto come dicevo ho lavorato parecchio in Regione. Credo che parecchi dei punti che abbiamo tirato giù nel nostro programma, oltretutto si possano attuare anche a livello regionale per cui mi piacerebbe appunto portare questa mia esperienza personale e aiutare i miei concittadini in un'area, portare insomma il mio piccolo contributo in un contesto appunto un po' più ampio come può essere la Regione, Piemonte. Oltretutto io sono molto legata a questo territorio, sono da sempre vicina ai problemi ambientali per cui mi piacerebbe molto occuparmi di ambiente ma credo che continuerò a occuparmi di quello che sto seguendo attualmente nel gruppo di Gassino che è la famiglia, la scuola e le politiche giovanili. Cosa, niente, come in conclusione io vi ringrazio e vi saluto. Grazie, ciao.